Francesco Bacone, filosofo di inizio 600, si propose di rivoluzionare completamente la filosofia naturale. Egli, infatti, giudicava ormai superata l'idea di scienza proposta dalla tradizione aristotelica. La ricerca effettuata dalla filosofia naturale non doveva essere una disinteressata speculazione di realtà immobili, ma aveva come scopo il dominio della natura mediante l'invenzione. Nel suo Novum Organum, Bacone propose il suo nuovo metodo, basato sull'interpretazione della natura, a partire dalle cose stesse. Egli affrontò il problema tra empirismo e razionalismo, delineando la figura del nuovo scienziato. Le formiche sono gli empirici, scienziati che accumulano senza criterio numerose nozioni partendo dall'osservazione, ma senza elaborarle in una teoria significativa. I ragni sono i razionalisti, persi nell'intessere da sé intricate tele di ragionamenti, senza riferimento all'esperienza. I veri scienziati devono invece agire come le api, raccogliere polline e trasformarlo in miele.